Cinque anni di squalifica e l'impossibilità di ricoprire cariche o funzioni in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio. È il verdetto del giudice sportivo alla luce dei fatti accaduti a Gossolengo durante lo spareggio tra Royale Fiore e Medesanese, per la quale, come previsto, è stato decretato lo 0-3 a tavolino. Come ormai tristemente noto, domenica scorsa la partita è stata sospesa poco prima dell'inizio del secondo tempo supplementare, a causa dell'aggressione subita dall'arbitro ad opera del presidente del Royale Fiore, Salvatore Rizzo. Non è finita, sono arrivate anche 300 euro di sanzione per la società, squalifica fino al 3 giugno per l'allenatore Sandro Melotti, mentre tre gare di castigo sono state combinate a Luis Centi, due a Stefano Cossetti e Gian Antonio Farinotti e una a testa per Cobinà e Signarolli.